Continuo io al piano. Scusate? Dottoressa? Che state facendo? Eh, quello che ha detto lei stamattina. Ha detto, porta il paziente a fare il prelievo. E l'abbiamo portato. Beh. I soldi, non ce li ho. Che ti devo dire, la dottoressa così ha detto. Fai un prelievo, stupidi chiudo. La domanda, da quanto tempo lavorate con noi voi due? Tre giorni solo. Questo è l'ultimo. Grazie, gentilissima. Finalmente, andiamo a casa.